Allora, la storia è questa qua, c'è questa contessa, Paola Turelli, Paola Ludovica Turelli della Guastalla, che ha 29 anni e è diventata vedova. Allora, ha aperto una casa per bambini ricchi decaduti, nel senso nobili decaduti, e questo è il giardino di questa casa, il giardino è stato finito nel 1555, quindi ha quasi 500 anni. Allora